salve a tutti amici e benvenuti sul nostro canale green bar come ben voi sapete avevamo il wish point nel nostro locale green bar abbiamo cessato diciamo il wish point e adesso wish ci ha chiesto di mandare diciamo i prodotti che avevano nel deposito o di dargli beneficenza oppure di dare questi prodotti prendere questi prodotti e portarli a un miso ecologico un punto di smaltimento noi visto che non conosciamo nessun ente beneficiario eccetera eccetera abbiamo deciso di portare questi prodotti all'isola ecologica adesso wish ci ha dato l'approvazione per aprire questi prodotti tramite un modulo che abbiamo compilato e mandato wish ci ha dato la possibilità di aprire i pacchi smart nel modo più idoneo e adesso facciamo vedere anche qualcosa ci sono all'interno dei pacchi iniziamo con il primo una pellicola poi questi qua facciamo il dovuto un mantimento plastica 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 possono essere gettate anche una pover anche questa credo che sia una pellicola una volta del genere come qua si crede che sia una pellicola adesiva qualcosa del genere comunque va in postica senza di plastica questo è un borsellino colorino per cane no medaglietta per cani almeno credo il più piccolo pacco ci sono braccialetti plastica e questo non so che cosa sia comunque questo è che cosa sia questione di sé dopo ci rimangono questi due vedete che sia un vestitino da un vestitino e abbiamo l'ultimo passo questi sono i pacchi che erano rimasti nel nostro inventario noi abbiamo aperto questi pacchi perché wish ci ha dato il permesso se no non mi siate mai permesso di aprire questi pacchi e adesso come li vedete così vanno all'isola ecologica per lo smaltimento dei rifiuti e verrà fatto tutto secondo norma e la dichiarazione che rilascerà dovete cercare anche di avere una dichiarazione dell'isola ecologica e poi inviarla alla sede wish così almeno mi hanno chiesto e io così farò questo è il procedimento per lo smaltimento dell'inventario a terra o lo date in beneficenza a un'associazione che si occupa di beneficenza oppure lo portate a un'isola ecologica per lo smaltimento io vi ringrazio della visione vi invito ad iscrivervi al canale spero che il video vi sia piaciuto che vi sia utile in qualche modo grazie mille a tutti per la visione e iscrivetevi al canale per la visione